Il grande pugilato del circuito dilettantistico torna in città grazie alla quarta edizione del trofeo Bergamo Città dei Mille, un torneo interregionale promosso dalla Bergamo Box e che si svolgerà in quattro serate tutte di sabato a partire dal 23 giugno. 28 in tutto i pugili che si affronteranno sul ring di Via Baioni per un totale di 50 incontri. Protagonisti dell'evento saranno i pugili dilettanti maschili Signores di prima, seconda e terza serie. Contemplate soprattutto le categorie pesi medi e super welter. Gli atleti invitati dalla Bergamo Box sono stati selezionati non soltanto in Lombardia ma anche in Emilia Romagna, Toscana e Veneto. Le serate, organizzate a partire dalle ore 20, prevedono oltre a 14 incontri pugilistici ad ogni tappa anche un giardino estivo allestito a bordo ring con musica e drink e soprattutto ingresso libero e gratuito a tutti quanti. E per l'occasione il trofeo Bergamo Città dei Mille sarà intitolato alla figura di un grande pugile del passato, Livio Minelli, scomparso il 4 febbraio scorso negli Stati Uniti e le cui ceneri rientreranno in Italia ad agosto. Rientreranno a Bergamo nel cimitero di Ponta Aranica dove sono seppelliti anche i genitori e questo è stato il desiderio espresso prima di lasciarci dallo zio pugile che è sempre stato legato alla città di Bergamo, alla sua terra e alla sua gente e questo è stato l'ultimo desiderio, i suoi figli lo esaudiranno ad agosto, arriveranno l'11 e poi dopo si farà una piccola celebrazione nel cimitero di Ponta Aranica.